Un uomo libero, questa è dimostrazione che è un governatore libero. Se uno dice all'inizio che qualunque sua scelta non è dettata dal voto personale o dall'attaccamento alla poltrona, ma quello che farà in quattro anni lo farà a prescindere da una sua candidatura, secondo me è una dimostrazione di onestà e di correttezza rara. Se Pisapia dicesse io non mi ricandido, probabilmente ci sarebbero i caroselli di festa per la via di Milano, però sarebbe apprezzabile dal punto di vista del suo agire politico. Quindi da leghista e prima ancora che da leghista da Lombardo sono ancora più contento di averlo eletto come governatore. Se poi avessi un desiderio da esprimere, il palazzo da ripulire è questo, a proposito di Monnezza. Se potessi scegliere una sfida sarebbe quella per provare a chiedere ai milanesi se hanno voglia di un sindaco un po' più presente, un po' più innamorato della sua città.